Ma Luiz per noi è un giocatore importantissimo, non a caso da quando lui sta giocando ai suoi livelli abituali la squadra ha fatto prestazioni diverse. Quindi noi stiamo cercando di impostare la squadra su Di Lue e su Melinkovic, chiaramente, che sono due giocatori e ci possono dare tantissimo. Il percorso non è stato semplice, però sembra che la strada presa possa essere quella giusta perché loro due possano incidere in maniera importante. L'attacco di Juventus è al di là della classifica, però mi sembra sia la rosa più profonda e forse anche quella con più qualità di tutta la Serie A. Quindi non è solamente un discorso dei giocatori offensivi, è un discorso di forza di questi singoli che sono tutti di alto livello. Quindi vediamo di dargli la gestione della palla il meno possibile, di averla il più possibile noi e di poterli ottenere il più possibile. Quello mi aspetta, gli scontri fra gli allenatori sono tutti giornalistici, domani gioca la Lazio contro la Juventus. Quindi mi aspetta una partita bella, dura, difficile contro una squadra forte e noi dobbiamo confermare di essere in crescita. So che noi abbiamo degli ottimi giocatori, loro lo stesso, quindi è tutto da vedere, anche loro stanno aprendo un ciclo nuovo, quindi anche loro saranno a metà del percorso, non sono ancora la squadra che vorranno diventare. Però, te l'ho detto, io sono contento di quelli che ho e penso che abbiano ancora notevoli margini di miglioramento. Noi dobbiamo risolvere i nostri problemi prima di pensare a degli obiettivi materiali. Tre partite significano poco. Fino ad ora abbiamo avuto un'ottima reazione a una partita disastrosa. Poi avere continuità è una cosa diversa. Essere tosti per 15 giorni riesce a tutti, per tre mesi a pochi e per 11 mesi quasi a nessuno. O meglio, riesce solo a quelli e poi alla fine vanno a raccogliere risultati importanti. Quindi siamo contenti della reazione. La squadra ha avuto una partita disastrosa, però adesso dobbiamo andare alla ricerca della continuità. È quello che ci interessa realmente. Se fra tre mesi la squadra ha fatto un ciclo di 15 partite, non voglio dire su buoni livelli di risultati, ma con continuità di prestazioni, allora potremo darci un obiettivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.